Bene amici, oggi scopriamo insieme il loro Marine C38, un battello natante con una lunghezza fuori tutto di 11,99 m e una larghezza di 3,75 m. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa è salata giunta allo scafo un'unica grande pedana con al centro la coppia di Suzuki DF350A, ma la motorizzazione massima arriva fino a 400 CV, mentre ai lati troviamo due plancette, ognuna con la relativa scaletta di risalita nascosta all'interno. Vedete, ribaltando il portarello è possibile abbassare la scaletta e c'è anche la doppia maniglia, tienti bene per agevolare l'uscita dall'acqua che è anche rimovibile, in questo modo possiamo lasciare il piano di calpestio libero da ingombri. E a proposito di piano di calpestio, guardate qui c'è tantissimo spazio per muoversi agevolmente a bordo, perché i tubi di collegamento del motore passano al di sotto del piano di calpestio e quindi riusciamo a muoverci senza nessuna difficoltà, con la doccetta per il risciacquo nella zona di poppa posizionata qui a sinistra e poco più in alto la galloccia per l'ormeggio. L'accesso a bordo è semplicissimo, c'è soltanto questo gradino da scavalcare perché vediamo che c'è un grandissimo prendisole che occupa l'intera larghezza interna del battello, grazie anche alle massere in vetro risine il cuscino è ribassato, quindi riusciamo ad avere ulteriore protezione con la possibilità di chiudere l'intera zona aggiungendo una spalliera rimovibile. Qui c'è l'attacco per la presa a banchina, mentre sulle master in vetro risine troviamo la predisposizione per i candelieri per la tenda araba, perché in questo allestimento vediamo la presenza del T-top che permette quindi di far ombreggiare l'intera porzione di poppa. Passeggiamo quindi sul cuscino di poppa e arriviamo in Pozzetto, Pozzetto che vede un divanetto a forma di C, gavonato al senterno, ci sono tre gavoni indipendenti che permettono quindi di aumentare lo spazio di stivaggio e si sommano all'enorme gavone posizionato al di sotto del prendisore di poppa, dove è possibile anche installare una motorizzazione entro fuori bordo, ma che in questo allestimento con la coppia di Suzuki consente di avere tantissimo spazio per lo stivaggio e avere anche a portata di mano l'impiantistica con batterie e pompe di sentina. Qui al centro vediamo anche la predisposizione per l'inserimento di una base fissa con tavolo, in questo modo è possibile creare una dinette di poppa, mentre il blocco cucina è posizionato centralmente poco più avanti. Sollevando il portello vediamo che in questo allestimento c'è un singolo lavello centrale, ma opzionalmente è possibile installare qualsiasi tipologia di piano cottura e avere un supporto per il tagliere, mentre sul lato di dritta in basso c'è il frigorifero, frigorifero a carrello che permette quindi di lasciare tutte le bibite al fresco. Guardate anche la possibilità di muoversi senza difficoltà perché il piano di calpestio è libero da ingombri, qui c'è il tappo d'imbarco del serbatoio del carburante e muovendoci possiamo anche sfruttare le due maniglie tentibene presenti ai lati del blocco seduta per avere una presa più stabile. Non manca anche un portello stagno di ispezione dei tubi di raccordo per i serbatoi e anche per la bombola dell'eventuale fornello e vi mostro anche la presenza del tubolare rialzato rispetto al piano di coperta, arriva all'altezza del nostro ginocchio tubolare in neoprene orca che si va poi ad abbassare rispetto al piano di calpestio perché ci sono diversi gradini ma lo vedremo tra un istante, ci sono due gradini per accedere alla plancia di comando e arrivare quindi in postazione di guida. La seduta vede un divanetto per tre persone con schienali fissi, i montanti del T-top scaricano centralmente e qui abbiamo il bolster singolo dedicato alla postazione di guida per il comandante che consente quindi di scegliere se avere il supporto per la schiena oppure governare in modalità tradizionale quindi quando sono seduto posso puntare i piedi sul gradino in basso o il timone facilmente raggiungibile vedete nessun ingombro con le ginocchia, doppia manetta di potenza spostata sul lato di dritta, l'HMR15 fornito da Hertz con l'impianto stereo, display multifunzione e doppio monitor fornito in questo caso da Suzuki con la motorizzazione per avere qualsiasi informazione non solo sulla navigazione ma anche sullo stato appunto dei motori. Gli interruttori on off sono disposti su due livelli, qui c'è il quadro di accensione e abbiamo anche il controller dell'elica di prua che è opzionale. In basso non manca una retina porta oggetti, ci spostiamo quindi verso prua come vi dicevo ci sono due gradini che riducono il dislivello con i tubolari quindi arriviamo alla stessa altezza del tubolare con una comoda maniglia tentibene posta qui lateralmente ma possiamo anche sfruttare i montanti del T-top che scaricano lateralmente per avere una salda presa quindi possiamo letteralmente passeggiare prua vedete la larghezza del passo avanti e arriviamo sul prendisole, prendisole interamente ricoperto di cuscini in questo caso vediamo la presenza del passo duomo centrale ma c'è il cuscino predisposto per chiuderlo integralmente mentre all'estremità del prendisole c'è un ulteriore gavone, gavone piuttosto profondo che permette di lasciare all'interno tutte le dotazioni di sicurezza e poco più avanti doppia HMX fornita da Hertz. Guardate anche le maniglie per agevolare il supporto nella porzione di prua posizionate sui tubolari e abbiamo anche un comodo scudo posizionato anteriormente al cassero per formare un ascese long di prua. Il musone è in vetro resina e abbiamo al suo interno il vano dedicato al vericello sollevando questo portello vediamo quindi il vericello con il musone dell'ancora in questo modo l'ancora è a vista e una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra stando in plancia di comando perché facilmente monitorabile. Opzionalmente è anche possibile installare una telecamera per avere tutto sotto controllo sul display multifunzione. Il musone ha un layout totale che permette di passeggiare grazie al rivestimento in eva presente su tutti i piani calpestabili del battello è un'inclinazione per consentire la salita e la discesa quando si ormeggia di prua per accedere agevolmente in pontile. Completa la dotazione di prua la doppia galloccia per l'ormeggio da un lato dall'altro. Ritorniamo verso poppa ed entriamo in cabina come vi dicevo il passaggio essendo simmetrico consente di avere un rapido spostamento a bordo qui c'è un ulteriore mania tintibene verticale per il copilota ed entriamo all'interno. Accesso con porta scorrevole ci sono due gradini per ridurre il dislivello e accedere agevolmente all'interno e vediamo che c'è un primo disimpegno qui molto ampio per la sua categoria e un letto matrimoniale. Quello che vedete è il cuscino per coprire il passo duomo sul prendisole di prua mentre ai lati ci sono dei comodi portelli per accedere all'ispezione dei contatti o anche per riporre l'abbigliamento. Vi mostro inoltre l'altezza interna perché riusciamo a stare perfettamente in piedi nella porzione principale della cabina poi si va ad abbassare perché accompagna il layout della prua ma quando siamo qui vedete anche da seduti riusciamo a stare comodamente nella zona principale poi abbassandoci resta comunque tanto spazio per rendere vivibile il battello per due persone quindi effettuare anche qualche notte fuori. Qui c'è un ulteriore mobile dove lasciare gli oggetti all'interno ma il layout che vedete è totalmente customizzabile secondo le esigenze perché il cantiere lascia tanto spazio per la personalizzazione. In cabina separata c'è il bagno aprendo la porta sul lato di dritta vediamo che c'è il lavello lì posizionato lungo la murata, l'oblò con la relativa vetrata per dare luminosità e areazione, il vc è posizionato verso poppa sempre sul lato di dritta mentre qui c'è un mobiletto dove lasciare gli oggetti e vi mostro anche qui l'altezza interna perché qui in alto c'è la plancia di comando quindi abbiamo soltanto la testa un po' abbassata dal momento che il piano di calpestio è anche rialzato per far passare gli impianti del bagno ma una volta seduti non abbiamo nessun problema di altezza quindi bagno perfettamente utilizzabile in ottica crociera e uscite quotidiane. E quindi cari amici questo è l'Oro Marine C38 come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale youtube e alla pagina facebook lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate e come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team